Fin che la barca va, lasciala andare, fin che la barca va, impara a cantare. Fermo lì! Dove credi di andare? Eh, brava, non ce l'ho detta mia moglie dove vado, e ce lo vengo a dire a lei, ma si figuri, mamma mia. Fermo qui! Quello che lei dice o non dice a quella santa donna di sua moglie, a me non interessa. Ma lei passa di qui e deve chiedere il permesso a me. Benissimo, allora la facciamo, permesso! No, ma non è scusatoso! Dove credi di andare? Ce lo dico? Eh sì, vieni. Dal nuovo inquilino. Quello del quarto piano? Sì, c'è ne uno solo, no. E per cosa? Donnine? Giro di denaro sporco? Eh? Droga! Devo aggiustare una papà. Oh, bello. E da quando in qua lei sta aggiustando le tapparelle? E da quando in qua lei ha imparato a parlare, scusi. Sì, allora. Io vado. No, l'accompagno. E ti pareva, ma accompagnale. Eh sì, l'accompagno. Ma che combinazione! E l'accompagno, l'accompagno. È permesso? È permesso, signoriva? Signoriva? Ci penso io, ci penso io, ci penso io. Signoriva! E chi è? E chi è? Pappo Natale! Ah sì? È un po' in ritardo, ma molto somigliante. Oh, spirituosa! Quello cos'è? Nuovo è quello che uso il 6 gennaio. Quello del 6 gennaio l'ho già rotta sulla schiena a uno che mi guardava in questo modo. Ho capito, sì. Scusate, eh. Ma cosa volete? Avrei un po' da fare io. Io ho visto, ho visto che avevo da fare. Sto aspettando gente. Chi, chi? Che gente? Chi viene? Scusate, te la sarai. Dai, guardi, non ci provi, è inutile. Qualcosa ci deve dire. Donnine. Oppure il compagno con un colpo in banca. No, il tecnico delle tapparelle. Eh, sono io. Ah, sì? Sono io. Allora... E' uno che sa giusto a fare un po' di tutto, o meglio, crede di saper fare un po' di tutto. Pensi che è l'anno scorso, ma... Per favore! Ma mi... Vabbè, vabbè, glielo dico un'altra volta, però glielo racconto dopo. Benissimo. Perché hai fatto un paraccio all'anno scorso, mi ricordo, hai fatto un accordo. Vabbè, allora... Allora andiamo a vedere la tapparelle, dai, 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 dai. Bella, sta l'anno di nuova. Ma... Ma veramente... Riciclata, riaggiustata, riaggiugnata, riaggiugnata. No, 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 no. Mentre il pieno era anche variato. Ma veramente... Senta, ci dica qualcosa, che se no ce ne andiamo a Pasqua, o sì o no? Sì, tira nuova, tira bene, è nuova. Sì. Ma sicuro che sia nuova? Lei è sicura di arrivare lì, ma stasera? Magari un po' di guelta stomaco, se continuo a stare con delle persone così. Ecco, bravo, allora perché non se ne va? Ma se non lo dico per la tapparella, andiamo a vedere la tapparella. Andiamo a vedere la tapparella. No. No, eh? No. No. Allora io vado. Sì, sì. Però se avreste bisogno... Arrivederci! Sì, ma se per caso... Arrivederci! Sì, ma tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, tutti uguali, ma scusi, è sempre così? No. No, devo dire che questa sera mi sembrava più riservata.